oggi vediamo i software fondamentali per la stampa 3d ho scritto un articolo il 20 ottobre 2019 che un pomeriggio mi ha interessato molto molto ho cercato di far capire a tutti che sono necessari due barra tre programmi per andare in stampa oggi ecco tre programmi che ti consiglio quindi di usare se in modo sicuro vorrai stampare se avete bisogno di un consiglio prima assicuratevi di aver installato correttamente le versioni dei software di seguito elencate cura 3d 1504 mesh mixer sketch up make possibilmente 2015 perché la versione è quella free questi programmi 3d o software per la stampa 3d sono utili perché hanno tre funzioni differenti che tra loro si compensano per aprire modelli 3d complessi con sketch up è fondamentale avere un buon computer in grado di effettuare tutti quei calcoli nel caso il programma si blocchi significa che il pc non è abbastanza potente o che il modello 3d è corrotto che cosa è quindi uno slicer 3d cura 3d uno dei tanti slicer serve per effettuare il file da stampa 3d detto anche gcode slicer significa un programma che fa fette il modello 3d fette o strati alti circa 0 2 millimetri che sovrapponendosi formano l'oggetto 3d all'interno dello slicer è necessario trasportare un file in formato stl se il file stl è ben fatto lo slicing avverrà come da vostra aspettativa mesh mixer se il modello stl non è corretto è necessario aprirlo con mesh mixer mesh mixer come vedremo in una serie di lezioni ha la possibilità di analisi e correzione semplice dell'oggetto grazie a questo programma è possibile tappare buchi eliminare superfici sezionare oggetti trasformare in mesh un modello 3d cad o in tracciati un solido tutte queste correzioni le identificherei come correzioni di livello 1 sketch up se il modello 3d è talmente mal generato che mesh mixer non può ripararlo è necessario aprirlo con un programma molto smart come sketch up make 2015 questo programma come molti altri darà la possibilità di aggiungere o eliminare mesh punti o linee tramite sketch up quindi non correggiamo ma modifichiamo direttamente l'stl tutto quello che comporta una ricostruzione parziale del modello 3d stl le definiamo come correzioni di livello 2 allora visto che siamo all'inizio di un percorso formativo una cosa molto molto importante da dire a tutti quelli che chiederanno consigli vi do un consiglio io prima che è quello di installare le stesse identi identi identiche versioni con cui stiamo facendo i corsi ho identificato uno slicer base che contiene tutti i parametri necessari mi raccomando installa quella versione antica di cura 3d potrai scaricarla sul libro virtuale vi faccio scaricare questa versione perché perché tutti i parametri servono a qualcosa e non sono troppi non ci si confonda e non ci sono parametri inutili non che i parametri che abbiano messo nei nuovi slicer non siano utili ma confondono le idee di chi di chi si approccia al mondo della stampa 3d io piuttosto che entrare sempre di più nel dettaglio in informazioni che comunque più avanti non serviranno cerco di rendere la vita molto più semplice a tutti quelli che si approcciano alla stampa 3d la dimostrazione del fatto che è l'inizio del vostro percorso in cui installerete la vecchia versione vi ho fatto vedere anche nel video delle immagini di uno slicing lo slicing di canvas uno slicer che sicuramente sia aggiornato perché perché è direttamente online e quindi la versione è sempre aggiornata e non dovete scaricare niente dovete semplicemente effettuare i login e accedere a canvas quindi se questo video ti è stato utile mi raccomando condividilo per fare 5 6 7 minuti di video ci ho messo due giorni questa volta qua perché ho cercato di darvi anche una grafica migliore e di mettervi delle immagini dei video estrapolati però per farvi capire molto bene il concetto quindi ti prego se ti è piaciuto condividilo perché oltre che essere stato utile a te potrebbe essere utile a qualcun altro